Chi siamo? Da dove veniamo? E dove stiamo andando? Nessuno pensa a queste domande. Andiamo a lavorare, giorno dopo giorno. Ridiamo, ci lamentiamo, compriamo cose, mangiamo e dormiamo. In qualche modo è già passato un secolo. Io ho 117 anni. Come racconto spesso, la leggenda narra che l'umanità è venuta dall'oceano e che, quando il viaggio della nostra vita come esseri umani su questa terra sarà compiuto, le nostre anime torneranno al mare con le sembianze di un bel pesce. Quando racconto questa storia, nessuno mi crede. Dicono che sono una vecchia pazza, ma io so che è la verità. Posso vederli nei miei sogni, pesci giganti che nuotano giù dal cielo. Posso sentire che mi chiamano e le loro belle voci risvegliano i miei ricordi. Molto tempo fa, quando la terra era giovane, tutto ciò che esisteva era un vasto oceano, popolato da grandi pesci primordiani. Questi pesci antichi erano le prime incarnazioni dell'anima umana. Ecco perché, dal momento in cui nasciamo, l'oceano ci chiama e alla fine torniamo da lui.